Questo percorso ha mille veramente, stare qui con lei mi ha dato la capacità di capire quanto fosse importante questa giornata. Una medaglia da dedicare a tanti ma tra tutti è il Molise. Spero che loro siano orgogliosi di me perché sono orgogliosissima di rappresentarli e di dimostrare che il Molise esiste e me la porti.